Il Pineto ancora KO, al Mariani Pavone passa anche l'Ancona. I Terramani al terzo KO nelle ultime quattro gare e a secco di vittorie dallo scorso 3 dicembre contro il Sestri Levante. Domenica prossima scontro diretto per la salvezza in trasferta sul campo del Rimini. Nel primo tempo contro l'Ancona la scuola di Amaolo è impalpabile nella metà campo avversaria. Peruchini spettatore non pagante, mentre dall'altra parte i marchigiani sono tutti nei piedi nella fantasia di Energe. E l'attaccante nel giorno del suo compleanno a spaccare la partita alla prima palla buona. Al ventiduesimo raccoglie sul lato destro dell'area, controlla e mette nel primo palo la palla del vantaggio. Tonti intuisce con un pizzico di ritardo e si fa infilare. Marchigiani avanti. Nel primo tempo non succede più nulla, anche se Energe potrebbe raddoppiare grazie allo svarione di Ingrosso che gli spalanca la porta, ma il suo tiro finisce incredibilmente alto. La ripresa si apre sulla stessa falsariga dei primi 45 minuti, con i pinetesi che, senza Volpicelli, assente per squalifica, sembrano evanescenti in fase offensiva. A Maolo prova ad invertire la rotta con i cambi, ma è proprio il neentrato Teraschi, al sessantesimo, a commettere una leggerezza fatale in uscita, al limite dell'area. Perde il duello sulla pressione di Spagnoli e l'attaccante Dorico calcia raso terra, trovando ancora una volta impreparato Tonti. 2-0 Ancona, Mariani Pavone gelato. Nel momento peggiore il Pineto la riapre. Al sessantaseiesimo, Njambe risolve una mischia nell'area avversaria. Destro di prima intenzione, sporcato da un difensore avversario e palla alle spalle di Perucchini. A Maolo getta nella mischia anche Chakir, provandoci con tutti gli uomini offensivi a sua disposizione nel finale. Non succede nient'altro, a parte una parata sul primo palo del portiere marchigiano, ma alla fine Colavitto può esultare. Ancona 2-1 Pineto.